Ho usato parole dure perché sono le parole che si sentono nel 2024, cioè nel 2024 sentire la parola me ne frego che è esattamente l'opposto della Costituzione e soprattutto è un inno al fascismo o ascoltare l'inno alla decima massa che sono i figli di coloro che hanno poi alla fine fucilato i 15, sentire queste cose qui nel silenzio assordante delle istituzioni perché l'unico che difende l'antifascismo è il Presidente della Repubblica, lunga vita il Presidente della Repubblica, per l'amor di Dio. Un ricordo molto intenso, parole molto diverse fra loro a raccontare anche le storie e la diversità che i 15 martiri hanno trasmesso con la loro vita nel comune impegno per la libertà e la democrazia. Credo forse che anche nel modo con il quale abbiamo sfruttato questo 10 agosto ci sia l'essenza dell'eredità dei martiri per la libertà. Una giornata bellissima e credo un segnale per le tantissime persone che oggi hanno partecipato qua al Pirelletto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.